Sì, grazie Presidente Rosato, buonasera Sottosegretario. Dunque, forse mi ripeto, ma per quanto mi riguarda, questo è un tema, Presidente, particolare, particolare perché sono anni che oramai ce ne stiamo occupando, particolare oggi, e mi permetteranno i colleghi di Leu, particolare perché l'ultima apparizione, e voglio ancora ricordarlo, l'ultima apparizione ad un comizio politico di Guglielmo Epifani, del collega Guglielmo Epifani, fu proprio in piazza, qui vicino, adesso non ricordo la piazza, e se pensa, Presidente, che era probabilmente poco più di un mese fa, questa cosa effettivamente colpisce e colpisce in modo importante, perché oggi probabilmente Guglielmo Epifani sarebbe stato lì su quei banchi a parlare di Whirlpool. Io venivo subito dopo di lui a parlare a questo comizio, a questo incontro che sindacati, parti sociali, operai, dipendenti di Whirlpool hanno fatto qui a Roma. E allora vede, sottosegretario, vado a citare e a ricordare, non me ne voglia ma lo devo fare, vado a citare un comunicato stampo, un post che circa tre anni fa fece l'allora Ministro dello Sviluppo Economico, dove disse Whirlpool non licenzierà nessuno e anzi riporterà in Italia parte della sua produzione, che aveva spostato in Polonia. Questo è il frutto di una lunga contrattazione che siamo riusciti a chiudere al Ministro dello Sviluppo Economico, sono quindi orgogliosi di dire che se l'abbiamo fatta stiamo riportando il lavoro in Italia. Questo per dirle, sottosegretario, che fare politica è molto difficile, fare, voglio dire, questo tipo di trattativa è molto difficile. Questo non voglio insegnare nulla a nessuno, ma prima di cantare vittoria serve evidentemente avere il gatto nel sacco, come ricordava l'allora allenatore Trapattoni. Così non è stato. E per dirle che io apprezzo la sua presenza qui oggi, le persone accorta ed attenta a queste dinamiche, lo sappiamo, ma oggi Presidente avrebbe dovuto essere quantomeno per correttezza in aula anche l'ex Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, che allora annunciò Urbi et Orbi, meno male che quella volta non si era un piccolo su un balcone, però annunciò Urbi et Orbi che Whirlpool era salva, che i posti di lavoro sarebbero addirittura rientrati dalla Polonia. Oggi lo Stato dell'arte è che Whirlpool ha chiuso e Whirlpool vede, fa capo chiaramente ad una multinazionale, non chiude, il paradosso è questo, non chiude perché è in crisi. Whirlpool chiude perché manager d'oltre oceano guardano più alla grande finanza e al protettorato nei confronti degli investitori internazionali che non agli operai, che non ai dipendenti. E questo è drammatico. Perché vede il sottosegretario Whirlpool è sì localizzata in Campania, sì a Napoli, però Whirlpool oggi è simbolo di quanto il nostro Paese sta vivendo. E so la cosa drammatica qual è? La cosa drammatica è che da questi banchi, per molti anni, abbiamo urlato, da soli quasi nel deserto, nel contestare, Presidente, un'Europa matrigna che sta stringendoci al collo il peggiore dei cappi. Perché? Perché oggi, vede, non si va più a delocalizzare dall'altra parte del mondo. Una volta si delocalizzava in Cina, si delocalizzava in India, si delocalizzava in Brasile. Oggi, per ottenere uno sconto sul costo del lavoro, basta delocalizzare ad un'ora e un quarto di aereo dall'aeroporto di Ronchi dei Regionari a Trieste, che il Presidente Rosato conosce bene. Questo è il dramma. E quindi io vorrei cercare, umilmente, di trasferire questo concetto che se il Governo italiano, il Parlamento, la politica in Italia non riesce a, evidentemente, a fare pressione forte sull'Europa rispetto, ad esempio, ad un livellamento della tassazione entro tutti gli Stati intramenia di questa nostra pessima comunità europea, vuol dire che casi come Whirlpool e altre multinazionali ce ne saranno settimanalmente. Io vengo dal Friuli Venezia Giulia, ci metto 25 minuti ad arrivare in Slovenia, ci metto 40 minuti ad arrivare in Austria. In Slovenia la tassazione unica sui redditi delle aziende è al 19%. Noi qui abbiamo tre o quattro volte tanto. E allora vede, sottosegretario, l'azienda madre di Whirlpool, questa multinazionale, prima citavo d'oltreoceano, questa multinazionale statunitense, vado a ricordare, nel 2020 ha fatturato 19,5 miliardi, con un margine operativo del 9,1%. Si bacerebbero i gomiti i nostri imprenditori per arrivare alla metà di un margine del 9,1%. Le previsioni rispetto al 2021 saranno del 10,5% rispetto al margine operativo. Allora, bisogna avere il coraggio, secondo me, oltre, voglio dire, agli interventi illustri dell'onorevole Fornaro piuttosto che del rappresentante della Lega, che hanno spiegato anche tecnicamente quello che sta accadendo. Io cerco di essere poco politicamente corretto, perché ad un certo punto serve andare a prendere per il bavero questi manager e dire a loro, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero del Lavoro, presso la Whirlpool a Napoli, che Whirlpool da qui non si sposta. Perché Whirlpool ha preso, come lei sa, contributi pubblici per milioni di euro, abbiamo e avremmo promesso altri 17 milioni di euro, ha promesso un piano di fronte alla politica in un tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico, ha promesso un piano di rilancio industriale, ci ha preso per il naso. E allora a questo punto serve mostrare i muscoli, perché la politica non serve più o serve poco. E quindi, sottosegretario, il problema oggi che si pone, oltre a quello che ho cercato di evidenziare e di spiegare, è anche un altro. E mi permetta, mi tolgo qualche sasso dalle scarpe, i licenziamenti collettivi sono stati votati in quest'Aula esattamente da coloro che scendono in piazza e dicono di voler difendere il lavoro. E mi rivolgo all'area sinistra di quest'Aula. I licenziamenti collettivi li avete votati voi, con Matteo Renzi al Governo. L'aggiramento dell'articolo 18 l'avete votato voi, con Matteo Renzi al Governo. E quindi forse, al netto del fatto che molto probabilmente l'articolo 18 poteva rappresentare anche, forse ogni tanto, quasi un totem ideologico, voglio dire che dopo molti anni poteva essere, sì, ok, rivisto, però i licenziamenti collettivi sono stati votati dalla sinistra di questo Paese. E noi da questa parte, voglio dire, ci troviamo spiazzati innanzi a tutto questo. Però al netto delle polemiche, che secondo me però in questo caso sono propedeutiche alla ricerca di un risultato, diciamo che gli operai di Whirlpool, e guarda caso, prima abbiamo votato una mozione che parla, voglio dire, di differenze purtroppo tra uomo e donna in termini di salari, ad esempio, e guarda caso il 60% dei dipendenti Whirlpool di Napoli sono donne. E quindi vede, c'è un accavallarsi di promesse non mantenute, vede, sottosegretario, questi lavoratori sono stati molto spesso prigionieri di promesse. Sempre con, voglio dire, la speranza che quella promessa il giorno dopo venisse mantenuta. E non è stato così, purtroppo. Vede, c'è un netto aumento della produzione, come prima ricordato, è un'altrettanto esponenziale crescita dei volumi per questa azienda. I 355 lavoratori, queste centinaia di lavoratori, voglio dire, non possono evidentemente permettere che il loro lavoro, tutto quello che loro hanno fatto, tutto quello che è il capitale umano di un'azienda possa andarsene semplicemente perché un elettrodomestico costa il 70%, 80% in meno, non dall'altra parte del mondo, ma a qualche ora abbiamo capito di aereo. E soprattutto laddove il costo del lavoro, che non guarda, tra l'altro, le professionalità. Perché anche sotto questo punto di vista si aprono molte, voglio dire, esplodono molte contraddizioni. Oggi noi, ad esempio, Ministero del Lavoro, Ministero dello Sviluppo Economico, Governo, dovrebbero puntare, ad esempio, moltissimo sulla formazione dei nostri dipendenti, dei nostri lavoratori, dei nostri operai, soltanto con una formazione importante. È molto probabile che queste multinazionali non troveranno la stessa formazione in Polonia, in Romania, dall'altra parte dell'Europa. E, ad esempio, una delle proposte di Fratelli Italia, a mia firma, in seno al decreto sostegni bis, è quello di applicare, ad esempio, quale occasione? Una formazione obbligatoria durante i periodi di sussidio, durante la cassa integrazione, durante la Naspi, durante anche il reddito di cittadinanza. Queste persone che sono lì parcheggiate, giusto che ci sia la cassa integrazione, anche se ritengo che evidentemente forse non è ancora, voglio dire, lo strumento, e non è più lo strumento così moderno per poter andare incontro alle crisi aziendali. Ecco che se questi dipendenti sono obbligati a fare formazione durante un periodo di sussidio, succede che se l'azienda riassorbe la crisi, magicamente si troverà dei lavoratori più formati. Se invece l'azienda, purtroppo, non riassorbe la crisi, riverseremo, ahimè, sul mercato del lavoro e dei licenziamenti, dei lavoratori più formati e quindi probabilmente avranno più possibilità di un posto di lavoro, più o meno stabile. E quindi è questa, secondo me, voglio dire, una fase di rimente per il nostro Paese. Prima ascoltavo i colleghi che rispetto al PNRR ricordavano abbiamo dei fondi, utilizziamolo bene, abbiamo dei fondi e utilizziamolo, ma sentire che un'azienda che dopo che ha preso contributi pubblici se ne va e cerca di andarsene proprio per i motivi suscitati e sentire anche, Presidente, che la cassa integrazione e quindi, voglio dire, la collettività del nostro Paese paga per questa azienda, io ritengo, sottosegretario, che la politica debba andare insieme, destra, sinistra, centro, non me ne frega nulla, delle bandiere, a mettersi di traverso rispetto ai cancelli di questa azienda per poter fermare questa delocalizzazione che è soltanto una pallina di neve sulla montagna che sta arrivandoci addosso e ci arriverà addosso come una valanga e non come una pallina di neve. Siamo in corso, sottosegretario, e chiudo ringraziando la Presidente, di presentazione di una mozione anche a firma Fratelli d'Italia, pur comprendendo e chiaramente apprezzando la mozione del collega Fornaro e del gruppo Leo. Io ritengo che si possa fare un lavoro importante, però dopo le votazioni e dopo la votazione di questo atto parlamentare, sottosegretario, il Governo ha il pieno mandato di tutto il Parlamento per andare a fare esattamente quello che dicevo io prima, convocare di nuovo il management di Whirlpool e obbligarli, perché come ci hanno preso in giro loro, a questo punto noi mostriamo i muscoli. Soltanto così riusciremo forse a fare qualche cosa rispetto a tutti i posti di lavoro che sono sacri, perché lei sa, chiudo ringraziandola, che dietro ad ogni singolo posto di lavoro c'è un indotto di almeno tre o quattro persone, dietro ad ogni singolo lavoratore c'è una madre, c'è un padre, c'è un figlio, c'è una figlia, ci sono dei nonni, c'è una famiglia. Se chiedo un mandato è che vi daremo forte rispetto a questo tema, per cortesia non abbassate la testa di fronte a questa multinazionale. Ringrazio. Grazie a lei. Onorevole Napoli, prego. Grazie Presidente. Presidente, mi permetta un piccolo rilievo. Veniamo a conoscenza in questi minuti che domani non ci sarà più.